Nel secondo tempo c'è stata una difesa molto più intensa rispetto al primo, ma anche nel primo abbiamo lavorato molto bene. Rispetto alle due partite in Ungheria penso che ci sia stata un'unione, ci siamo concentrate di più e abbiamo creduto molto in questa partita. Speriamo anche nelle prossime due che giocheremo di avere buone prestazioni che servono soprattutto come allenamenti e sono buone partite da giocare tutti insieme, soprattutto per la difesa. Anche l'attacco è stato buono, abbastanza buono, con incroci e vari schemi che facciamo spesso in allenamento in partita. Abbiamo bisogno di queste partite per concentrarci al meglio, anche per gli impegni che ci spetteranno internazionali e speriamo del meglio.